Sì, 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 here I am, però non puoi essere il telefonista da mio, pronto, no ma il mio tedesco, mein Deutsch ist nicht sehr gut, ah maestro Abado, che piacere, ah le cose diventano più facile, no ecco dovevo solo dire, qui le cose cominciano a complicarsi, c'è un cambio di sequence, la scaletta, sì, no, pare che lei debba intervenire dopo il Perù, mi dispiace di doverla fare attendere, sono desolato, sono mortificato, ma bene, comunque l'ascolterò con grande piacere, con l'ammirazione di sempre, allora il Perù, qualcuno fa partire il Perù, tu lo fai partire. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.